Musica Peste suina, consiglio regionale aperto Disturbi alimentari stanziati 1,9 milioni di euro Approvato il disegno di legge sulle derivazioni idroelettriche Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati L'emergenza peste suina al centro di un consiglio regionale aperto nell'aula di Palazzo Lascaris Consiglio regionale aperto sull'emergenza peste suina in Piemonte richiesto da Confagricoltura con l'appoggio delle altre organizzazioni di categoria e dei gruppi consigliari di opposizione Nell'aula di Palazzo Lascaris si sono confrontati il mondo della politica nazionale, regionale e locale con tutti gli altri soggetti interessati a partire dal comparto scientifico Le associazioni hanno chiesto, il Consiglio regionale ha risposto in tempo celere come già sta rispondendo la giunta regionale cercando di contrastare questa pandemia Abbiamo scelto di optare per una recinzione di sicurezza è una recinzione che serve al contenimento di questi cinghiali proprio perché noi crediamo che un piano di popolamento incisivo, forte e coraggioso possa portare questi territori nell'arco di un paio di anni alla normalità Tra gli interventi in aula quello del sottosegretario alla salute Andrea Costa dell'europarlamentare Alessandro Panza del presidente regionale di Confagricoltura Enrico Allasia e di Angelo Ferrari, commissario straordinario interregionale per la gestione dell'emergenza PSA Stiamo avanzando molto velocemente con la posa in opera delle barriere Noi non vogliamo che animali positivi sfuggano dall'altra parte siamo preparati anche a questo ma abbiamo il dovere, al di là della barriera, di creare un forte depopolamento Ecco, questa è la funzione delle barriere I lavori della seduta aperta del Consiglio regionale sono proseguiti con gli interventi dei consiglieri regionali di maggioranza e opposizione Ritengo che l'unica strada percorribile sia ridurre in modo drastico il numero dei cinghiali per poi proseguire con i caprioli e mettere mano una volta per tutte anche il problema lupo Io credo che le istituzioni debbano fare molto di più per mettere in sicurezza il settore agricolo e per togliere dal tavolo delle discussioni le preoccupazioni degli agricoltori L'Aula ha poi approvato quattro atti di indirizzo collegati all'Assemblea aperta a firma Monica Canalis, Partito Democratico, Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia, Paolo Ruzzo, La Forza Italia e Shonsacco, Movimento 5 Stelle Approvato all'unanimità e rendiconto 2021 del Consiglio regionale del Piemonte La votazione si è svolta sotto la presidenza di Stefano Allasia che ha presentato il documento all'Aula Le entrate del Consiglio regionale nel 2021 ammontano a 49,2 milioni di euro quasi tutti frutto del trasferimento dal bilancio regionale L'avanzo di amministrazione prodotto insieme alle risorse già accantonate sarà utilizzato soprattutto per ulteriori investimenti nella ristrutturazione del patrimonio immobiliare e nell'ammodernamento tecnologico digitale Disturbi alimentari Approvato all'unanimità e testo unificato delle quattro proposte presentate Contrastare i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con un approccio nuovo potenziando l'offerta dei servizi e delle prestazioni e riconoscendo il ruolo fondamentale delle famiglie nei percorsi di prevenzione e di cura E quanto si propone il testo unificato delle quattro proposte di legge in materia presentate dai primi firmatari Silvio Magliano, Moderati Domenico Rossi, Partito Democratico Carlo Riva Vercellotti, Fratelli d'Italia e Sara Zambaia, Lega Approvato all'unanimità dall'Assemblea regionale Il provvedimento stanzia 1,9 milioni di euro per il Biennio 2022-2023 per interventi regionali di sostegno ai nuclei familiari e ad associazioni ed enti del terzo settore che si occupano di pazienti e familiari e per potenziare la rete dei servizi regionali per la prevenzione e la cura Le fasce colpite da questo fenomeno sono sempre più giovani anche bambini delle elementari Quindi c'era bisogno che trasversalmente i vari gruppi politici lavorassero in modo sinergico e propositivo A questa materia l'abbiamo fatto redigendo questo testo unificato che finalmente oggi legge Un approccio allargato, multidisciplinare che coinvolga anche le associazioni e le famiglie che troppo spesso sono in prima linea e credo che con questa legge abbiamo loro veramente degli strumenti importanti per affrontare questo terribile problema Approvato all'unanimità anche l'atto di indirizzo presentato da Silvio Magliano che impegna la Giunta a inserire nel piano di progetto biennale che la Regione deve adottare la domiciliarità delle cure per i soggetti con DNA Via libera dell'Aula al disegno di legge sulle derivazioni idroelettriche È stato approvato a maggioranza in Aula al disegno di legge che modifica le norme sull'assegnazione delle grandi derivazioni a uso idroelettrico per mettere a gara le concessioni con una previsione di ricavi per l'ente pari a circa 200 milioni di euro In qualità di relatori sono intervenuti per la maggioranza Matteo Gagliasso, Lega e per le opposizioni Alberto Avetta, Partito Democratico e Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi Matteo Gagliasso ha spiegato che si tratta di una materia quanto mai attuale in un periodo di crisi energetica qual è quello che stiamo attraversando Alberto Avetta si è soffermato sulla necessità di uniformare la normativa regionale con quella nazionale allo scopo di risolvere il conflitto tra regione e governo durato oltre un anno e mezzo Marco Grimaldi ha evidenziato che lo stato di siccità rischia di compromettere l'evoluzione di una parte delle energie rinnovabili legate all'idroelettrico L'assessore all'energia Matteo Marnati ha dichiarato che la legge è finalmente definitiva ora al lavoro per rinnovare le grandi concessioni in un settore strategico del nostro Piemonte Festa del Piemonte ha approvato l'articolato la votazione definitiva slitta a settembre Sarà votata definitivamente a settembre la legge che istituisce la festa del Piemonte il 19 luglio, giorno della battaglia della Sietta L'Aula ha approvato l'intero articolato sia alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni che hanno ritirato la grande maggioranza delle altre modifiche al testo presentate La legge ha tra i suoi obiettivi quello di valorizzare la storia della nostra regione la sua cultura, le sue identità e i suoi simboli Tra gli emendamenti approvati quello di Sean Sacco, Movimento 5 Stelle che aggiunge la denominazione Piemontan Festa e quello di Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre che impegna il Centro Gianni Oberto a salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale piemontese compreso quello delle minoranze linguistiche La battaglia della Sietta è stata rievocata domenica scorsa alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia con una commemorazione che celebra ogni anno l'anniversario della vittoria delle truppe piemontesi del 19 luglio 1747 contro le armate francesi e spagnole che scendendo dal Mon Ginevro puntavano su Torino Una manifestazione importante che ha visto 225 anni fa l'esercito piemontese combattere su questo terreno e vincere una granosa battaglia contro l'esercito francese Noi come Consigli regionale, come gruppo della Lega stiamo portando avanti un progetto di legge molto importante per dare poi veramente una data di festa del Piemonte ed è il 19 di luglio Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie destinati ai comuni 900 mila euro Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità nel giorno del trentesimo anniversario della strage di Via D'Amelio una deliberazione di sostegno ai comuni per la gestione dei beni confiscati alla mafia L'aula ha anche osservato un minuto di silenzio in ricordo di Paolo Borsellino e della sua scorta Il testo della deliberazione è stato illustrato in aula dall'assessore Maurizio Marrone La delibera approvata prevede lo stanziamento di 900 mila euro su due anni 2022-2023 a favore dei comuni per riutilizzare beni immobili confiscati alla mafia Con il nuovo provvedimento viene aggiunta la possibilità di utilizzare gli immobili confiscati anche per uffici, comandi e alloggi per gli operatori di polizia locale Oltre alla delibera sono stati approvati all'unanimità anche due ordini del giorno collegati Il documento, affirma Diego Sarno, Partito Democratico chiede che ogni anno vengano emanati i bandi previsti dalla legge regionale 14 del 2007 per l'erogazione di contributi ai comuni e dagli enti del terzo settore per il riutilizzo di beni immobili confiscati alla mafia Speriamo che quest'atto approvato sia poi, come dire, prodromico per una maggiore velocità per far uscire il bando per i beni confiscati perché il Piemonte ha aspettato tre anni e i comuni hanno aspettato tre anni per avere questa occasione L'ordine del giorno presentato da Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia sottolineando l'impegno della giunta regionale in questo campo chiede che anche per l'anno 2024 siano stanziati 450 mila euro di contributi tesi al recupero dei beni confiscati alle mafie Contrasto a tutte le associazioni tipo mafioso una priorità per il Consiglio regionale di Piemonte e tutte le istituzioni, gli enti territoriali devono porre sempre più attenzione a tali fenomeni Uniformare il contesto legislativo piemontese alle disposizioni nazionali relative alla figura del direttore tecnico delle agenzie di viaggi e turismo Questo è lo scopo del disegno di legge di modifica alla legge regionale 15 del 1988 approvato con voto unanime dall'Aula La relatrice di maggioranza Letizia Nicotra, Lega ha sottolineato come questo provvedimento sia utile a garantire professionalità e non improvvisazione nella gestione di un'agenzia di viaggio Silvio Magliano, moderati, relatore di opposizione auspica che nei locali in cui è prevista la vendita al pubblico sia sempre garantita l'accessibilità a tutte le persone disabili Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti